Ah, oggi c'è un'altra festicciola Per San Valentino Wow, very nice kid Because it's the birthday of Ali 27 years old Quindi facciamo una piccola festicciola Troviamo la Coca Cola e questa torta è bellissima Che bella E' il pepsi Miam, miam, miam Miam, miam Non il mio pezzo, per favore Adesso di un po' ci fa vedere come si fa in Filippina E' gatti qua Perché voi volete mangiare? La torta Questo è il mio pezzo E forse abbiamo trovato uno sponsor per il canale Speriamo tanto E' solo un po' ci fa, questo è fresco Ok, solo un po' ci fa Sì adesso, mangiare E' un po' ci fa Ma avete già chanato E' questo? Questo si chiama Ginamai Una specie di patate e pollo Questa invece è una specie di spaghetto cinese E poi le mancapiteria E poi le mancapiteria Quindi andiamo a fare un assaggio al volo Facciamo questo Facciamo il pollo Ecco c'è anche Questo è un frutto Solo in Filippina trovate questo Ci chiamiamo obe Obe 3 in 1 cioccolato e il queso che è il queso? il queso significa cheese questo è il mango formaggio dolce e questo? e questo è questo è fresco 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 che buono che buono radici radici abbiamo quasi raggiunto questo mese abbiamo fatto 700 iscritti quindi ci mancano solo 80 iscritti per raggiungere 10.000 iscritti che è un traguardo importantissimo e se riusciamo a ottenere anche di sponsor facciamo un giveaway gigante pensiamo di se abbiamo la sponsorship e quindi ci abbiamo un migliore guadagno nel prossimo giveaway probabilmente mettiamo il palio un premio più importante per il giveaway se abbiamo la sponsorship se abbiamo la sponsorship se mettiamo meglio il primo prize perché forse abbiamo la sponsorship per il canale quindi ci possiamo permettere un premio migliore finito? quindi stiamo aspettando quindi chi è il più bello oggi? mangiare l'ha l'angitata l'angitata è anche questo E' anche un bacio. C'è un bacio! È un bacio! È un bacio. È un bacio! E non so! Perché le buono? Marco. Marco! la pacco una buon sacco ok, proviamo il sacco anche una piccola ok, proviamo la panno Molto buono, molto buono il caccio. Poi ricorda me l'Italia. Perché è bianco, grano, raro. È l'italiano flag. Sembra la bandiera italiana. Perché è bianca, verde e rossa. Proprio come l'Italia. Invece la bandiera delle filippine è blu, bielo, bianco e red. E poi c'è la torta. C'è anche una stellina. Quindi adesso abbiamo assaggiato la torta. Adesso passiamo al gelato. Al gelato abbiamo cioccolato, ubi, che è un frutto che c'è solo da questa torta. Il queso sarebbe il formaggio dolce, speciale. Il mango. Assaggiamo. Si smelti, devi cominciare. È la mia favore. Obi è la mia favore. Ti piace l'Obi? E ora proviamo il gelato. Cioè, formaggio dolce, ragazzi. Cioè, avete mai mangiato il gelato al formaggio? Ottimo, ottimo. Cioè, questo qui lo carichiamo domani, tomorrow. Breakfast, this for breakfast is nice. On Facebook now, we upload. Invece, on YouTube, tomorrow. Ciao, ciao! quindi tanti auguri balin che ha festeggiato 27 anni 27 god bless you god bless all the food quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao i want to say thank you i want to say thank you mama becky for preparing this was my birthday hello ciao 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 ciao